Con Marco Fantasia invece andiamo a conoscere meglio Brenda Castiglio, reduce da una grande estate e ora caccia del titolo con Milano. È una delle giocatrici del momento. A 31 anni Brenda Castiglio sta attraversando il momento di massima maturità della sua bellissima carriera. L'estate con la nazionale è stata straordinaria. La Repubblica Dominicana ha vinto il campionato nordamericano in Canada per la terza volta consecutiva battendo in finale gli Stati Uniti con Brenda MVP del torneo. Si è giudicata ai giochi caraibici per la sesta volta consecutiva superando Porto Rico e ha ottenuto la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi mettendosi alle spalle Cina e Olanda. In Italia Castiglio è arrivata nel 2021 con la maglia di Scandicci per vincere una Challenge e una Coppa CEV. L'estate scorsa ha accettato l'offerta di Milano che ha allestito un roster per puntare allo scudetto. Brenda dopo questa grande estate ti senti al top della tua carriera? Ah sì, mi sento molto contenta di aver ottenuto tutto questo... Sono felice di aver ottenuto questo risultato. Ora sono qui per dare il meglio di me come sempre. Hai girato il mondo tu per giocare a pallavolo. Come ti trovi nel campionato italiano? Super bene, realmente mi gusta bastante. Molto bene, mi piace tanto. È un privilegio per me essere nel miglior campionato del mondo e mi sento molto felice che mi sia stata data questa opportunità. Milano ha allestito una squadra molto molto forte. Qual è il vostro obiettivo quest'anno? Dobbiamo ingranare come squadra e penso che quando questo succederà vinceremo tanto e se il cielo lo vorrà arriveremo alla finale play-off. per arrivaremo alla finale, se Dio lo permette.